Grazie a tutti Ciao, mi chiamo Laura, frequento il Liceo Linguistico di San Ginesio e mi trovo all'Università di Macerata per svolgere il progetto Alternanza Scuola Lavoro. Ciao, mi chiamo Lidia, sono una studentessa del Liceo Linguistico di San Ginesio e mi trovo all'Università di Macerata per svolgere il progetto Alternanza Scuola Lavoro. Ciao, sono Chiara, una studentessa del Liceo Linguistico di San Ginesio e sono qui all'Università di Macerata per il progetto Alternanza Scuola Lavoro. Questo è il Salone dell'Orientamento dell'Università di Macerata. Qui sono presenti tutti i centri e le facoltà dell'Ateneo e tu sei un visitatore. Vieni con noi, ti facciamo vedere cosa puoi trovare. Ora vediamo i centri. Questo è il CASB, la ricerca bibliografica a portata di Maus. Questo è il CIEM, il centro per l'informatica, l'e-learning e la multimedialità dell'Ateneo. Questo è il CRIM, col centro rapporti internazionali puoi studiare anche all'estero. Questo è il CAO, il centro d'Ateneo per l'orientamento, il punto di riferimento e di informazione sull'Università e sul mondo del lavoro. Questo è il CLAM, al centro linguistico d'Ateneo, tra le altre cose, puoi certificare il livello di conoscenza delle tue lingue. Questo è il CUS, perché all'Università non c'è solo lo studio, ma anche lo sport. Sei bravo? Bravissimo, anzi, il migliore? Per te c'è la scuola di studi superiori Giacomo Leopardi. Le facoltà a macerata sono sette. Beni culturali. Scienze della comunicazione. Economia. Scienze della formazione. Giurisprudenza. Lettere e filosofia. E scienze politiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti.